Ciao, sono Marzio Sala, Presidente e Direttore della Scuola per Educatori Cinofili di Affiniti Dog. Oggi rispondiamo ad una domanda ricorrente. Ma quanto deve essere lungo il guinzaglio per poter far sì che il cane non tiri? Mi hanno detto che per non far tirare il cane devo avere un guinzaglio lungo almeno 3 metri. Secondo l'ordinanza Martini, con ultima modifica ad agosto 2017, il guinzaglio non deve essere più lungo di un metro e mezzo. Chiariamo subito il concetto che non è assolutamente vero che il cane tira di meno più il guinzaglio è lungo, perché ci deve essere un percorso educativo che permette al cane di imparare ad avere il riferimento del proprietario e da passeggiare senza tirare. L'altro aspetto da chiarire, piuttosto da interpretare, è che il guinzaglio non deve essere più lungo di un metro e mezzo, ma può essere anche più corto. Sicuramente con un guinzaglio più lungo il cane avrà modo di poter comunicare con l'ambiente circostante in maniera più rilassata e naturale, ma non possiamo andare contro la legislazione. Questo vuol dire che possiamo circolare con un guinzaglio più lungo, anche di 3 metri, ma dovremo portarlo a rotolato affinché non superi la misura consentita dalla legge. Qui entriamo in gioco noi e la nostra manualità. Affiancati da un professionista potremo sviluppare tutte le manualità al guinzaglio e il relativo programma di lavoro per insegnare al cane a non tirare al guinzaglio. Questo programma dovrà comprendere diversi punti, fra cui uso delle manualità corrette sul guinzaglio, insegnamento delle posture corrette del corpo da usare con il guinzaglio, differenziazione della passeggiata, una pesvago ed un'educativa. Questo si può fare con le diverse lunghezze del guinzaglio, lungo dove c'è spazio e corto in ambito urbano. Per dove si può intendo parchi aperti, campi agricoli, insomma dove il cane può spaziare con l'ambiente. Insegnamento di fermate e cambi di direzione per insegnare al cane ad avere riferimento sul proprietario e da capire che la passeggiata è per due e non per uno. Fare esercizi di autocontrollo per insegnare al cane ad usare la propria eccitazione e a sapersi controllare. Lavorare prima in ambienti protetti per facilitare la concentrazione del cane e poi in ambienti con stimoli sempre più crescenti. Lavorare accorciando sempre di più il guinzaglio. Questa modalità operativa insegnerà al cane e dal suo proprietario a svolgere una passeggiata sempre più rilassante e a farla diventare una fonte di apprendimento per entrambi. Spero che questo video vi possa essere stato utile per la gestione del vostro cane e non dimenticate di seguirci sui nostri canali social e di metterci un like se il video vi è piaciuto.